Il Natale alle porte e almeno che a Milano lo sentiamo sicuramente, io personalmente, ma credo che anche i milanesi o quelli che abitano un po' al nord, perché è freddo. Contrariamente agli anni passati la temperatura è natalizia, ma non solo la temperatura intesa come tempo, ma anche quello che si percepisce passeggiando nella gente, forse tutti hanno voglia di buttar via un po' quest'anno che ci ha un po' deluso purtroppo ancora, per cui siamo a pochi giorni, direi poche ore, io ho deciso di non lavorare gli ultimi due giorni proprio per dedicarmi di più alla famiglia e per stare vicino alle nipotine che stanno vivendo, come quando ero piccolo io, questa attesa dell'arrivo del Babbo Natale, io quando ero piccolo, si diceva Gesù bambino, che porta i doni e le vedo entusiaste, felici e vorrei che in tutte le famiglie di coloro che ormai da anni mi seguono, sia la stessa cosa, cioè entri la felicità, la serenità, buttiamo via veramente le cose brutte e cerchiamo di stare insieme, che è la cosa più bella che c'è, condividere con la famiglia, con gli amici, con le persone più care, per cui non posso che augurare a tutte le mie tra virgolette donne un sereno e caldo Natale con le loro famiglie e sperando che il nuovo anno sia veramente un anno nuovo, cioè completamente diverso dagli ultimi due che abbiamo appena passato.